Ciao a tutti, oggi vi presenterò l'applicazione web Genialy. Si tratta di un'applicazione multifunzionale che ci permette di creare varie tipologie di contenuti digitali come ad esempio presentazioni, video presentazioni, dossier, immagini interattive, giochi, quiz, linee del tempo, infografiche, mappe, e-card, poster e curriculum. Come prima cosa è necessario creare un proprio profilo personale per utilizzare l'applicazione. Io avendolo già creato posso visualizzare la schermata home che mi permette di partire con il mio lavoro. Cliccando su create Genialy mi si aprirà una vasta lista di scelta tra varie tipologie di lavori. Cliccando su presentazione mi si apre una lista di vari template tra cui posso scegliere. Utilizziamo Genial presentation cliccando su usa questo template. Una volta fatto questo posso scegliere lo stile della mia presentazione. In questo caso utilizziamo cover cliccando su add e così mi si aprirà la mia presentazione vuota. Come prima cosa diamo un titolo. Per quanto riguarda il menu sulla sinistra ci permette di aggiungere un testo sotto forma di titolo o di corpo andando ad esempio a modificare il titolo. Possiamo aggiungere poi un'immagine modificando ad esempio queste che ci vengono proposte scegliendola o dal nostro computer o inserendo un link oppure dalle immagini proposte dall'applicazione. possiamo andare ad inserire delle icone, dei grafici e dei simboli, delle immagini interattive quali ad esempio bottoni o dei bottoni con testo oppure le icone dei social network. Possiamo poi aggiungere delle tabelle e dei grafici. Possiamo inserire anche delle note audio o scegliendole direttamente dal nostro computer o inserendo ad esempio un link. Infine possiamo anche scegliere la tipologia dello sfondo. Selezionandolo quindi dal nostro computer inserendo un link scegliendo semplicemente da i colori che ci vengono proposti oppure scegliendolo dalla libreria dell'applicazione. Cliccando infine su pages andremo a visualizzare la lista delle nostre pagine. Cliccando qua in basso su grid visualizziamo le pagine in un'altra modalità e come possiamo vedere ci compare un menu sulla destra che ci permette di selezionare la grandezza delle nostre pagine, di decidere se inserire una transizione che andrà a caratterizzare la nostra presentazione e infine di selezionare le modalità di navigazione tra una pagina e l'altra. Tornando su list possiamo notare che il tasto add page ci permette di aggiungere una nuova pagina scegliendo sempre lo stile che preferiamo. Basterà cliccare su add e si aggiungerà la nostra nuova pagina. Ovviamente possiamo anche in questo caso andare a modificare il titolo, possiamo modificare anche il corpo e anche l'immagine e qui in alto abbiamo tutte le impostazioni che riguardano il nostro testo, quindi il font, font size, possiamo decidere se metterlo in grassetto o in corsivo, l'allineamento del testo e così via. Una volta concluso il nostro lavoro possiamo decidere di aggiungere dei collaboratori ad esempio inserendo la propria mail e possiamo inoltre visualizzare l'anteprima del nostro lavoro. Cliccando invece su impostazioni ci vengono mostrate tutte le impostazioni del display, le impostazioni della privacy, del designer e infine i tasti che ci vanno ad indicare le varie impostazioni. Il video tutorial dell'applicazione è finito, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a tutti.